DuckTales è la serie tv Disney più divertente e ricca di avventure che abbia mai visto. È un must della mia generazione e ricordo che quando ero piccolo avevo tutti gli episodi in VHS. Ora DuckTales è tornato in una nuova veste che è pronta a stupire e conquistare il pubblico di ieri e di oggi. Le aspettative, neanche a dirlo, sono altissime. La storia è sempre quella. I giorni di gloria di Paperone sono passati e ora vive una vita placida e noiosa, finché la sua famiglia non risveglia quel desiderio di avventura che l'ha reso il papero più ricco del mondo. La premiere di DuckTales 2017 ci introduce nel nuovo universo dei paperi con una riscrittura perfetta dell'incontro originale e un approccio fresco e moderno che vuole raccontare una storia di crescita. Fate attenzione agli spoiler. Nel video parlerò di molte cose che avvengono durante la premiere, perciò nel caso non l'abbiate ancora vista e non vogliate rovinarvi la sorpresa, iscrivetevi al canale, recuperate la puntata e dopo tornate a guardare il video. Grazie. Il cartone inizia con Paperino che deve trovarsi un nuovo lavoro e per via dei problemi che gli causano i tre nipotini non può lasciarli da soli nella barca slash casa in cui vivono, quindi decide di portarli da zio Paperone. Il tono della serie viene messo in chiaro fin da subito. Fra zio e nipote deve essere successo qualcosa di gravissimo che li ha allontanati, qualcosa di molto serio, anche perché Paperino non ha mai detto a qui, qua, qua che Paperon de Paperoni è un loro parente. Questa rivelazione esalta tremendamente i tre fratelli che sono pieni di domande e hanno gli occhi ricolmi di ammirazione per il papero più famoso del mondo. Questa mancanza di fiducia tra Paperino e Paperone aggiunge uno strato di mistero alle loro questioni familiari che verranno approfondite sicuramente più avanti nella serie. Nel frattempo ci viene mostrata la solitudine di Paperone, la sua insoddisfazione. Amministra annoiato le finanze della sua azienda, rassegnato a non poter essere più il papero di una volta, fino a quando i tre nipotini non gli scuotono l'esistenza. Ed è qui che Duck Tales 2017 diverge dalla storia originale. Sia nel precedente cartone animato che nei fumetti di Don Rosa è un attacco dei bassotti a risvegliare lo spirito indomito di zio Paperone. In questa nuova serie, invece, il conflitto è interiore. Qui, qua e qua, vengono lasciati ai loro pensieri in una stanza da cui riescono ad uscire grazie a Gaia, la nipotina della governante di casa, che si rivela essere una fan scatenata della famiglia di Paperone e decide di portare i ragazzi a vedere alcuni tesori di famiglia. Mentre i ragazzi si dirigono verso guai certi, Quo ascolta una conversazione di Paperone che dice «La famiglia porta solo guai». Ed è qui che tutta l'ammirazione del ragazzo scompare. All'interno di questo angolo di casa, i quattro giovani avventurieri risveglieranno per sbaglio alcune creature mistiche e sarà solo l'intervento di Paperone che li salverà dai guai. Insieme dovranno affrontare un drago mangiaoro che vuole raggiungere il deposito di Paperone per saziare la sua fame. La battaglia contro il dragone è ciò che unirà Paperone ai nipotini, ricordandogli quanto era bello cacciarsi nei guai per il puro gusto di vivere un'avventura. Ma le origini non si fermano qui. DuckTales vuole alzare l'asticella ancora di più e andare in profondità nei rapporti fra i personaggi, puntando i riflettori su Paperone e Quo, il nipote di cui non ricorda nemmeno il nome. Il gruppo parte alla ricerca di Atlantide e Quo cerca di farsi notare da Paperone in ogni modo, anche correndo qualche rischio. Il vecchio avventuriero non vuole che i giovani si intromettano e desidera riuscire da solo nell'impresa. Nonostante il prozio non si fidi del ragazzo, alla fine sarà proprio Quo a trovare la soluzione per uscire sani e salvi dalla città sommersa, guadagnandosi la fiducia dello zio, il quale lo ringrazierà chiamandolo per nome. In soli due episodi DuckTales ha raccontato una storia più che soddisfacente e il modo in cui l'ha raccontata la rende non solo epica, ma anche intensa. Già solo da questi due episodi si percepisce quanto la Disney creda fermamente nel progetto. C'è la voglia di rivaleggiare con altre serie animate di punta come My Little Pony e Adventure Time e questo non può essere altro che un bene per il brand. Inoltre c'è grande rispetto e integrità verso il materiale originale. DuckTales 2017 fa tesoro della prima esperienza televisiva, ma vuole completamente distaccarsi dal cordone umbilicale. Basti guardare questo piccolo particolare della bambola di Gaia. Feticcio che la bambina portava sempre con sé nel vecchio cartone, qui invece impalato al muro con una freccia. Gaia di per sé è una rivelazione, una bambina dolce, un po' strana, con dei problemi relazionali, che si fa strada nel cuore di qui, co, qua e nel nostro. Graficamente la serie si impone come punto di contatto fra i diversi media della Disney. All'inizio Paperino ha una casacca blu tipica dei cartoni, in seguito viene sostituita da quella nera, da sempre collegata ai fumetti. Anche la palandrana di Zio Paperone è diversa dal canone animato o americano in generale, ricorda molto di più i fumetti europei. E che dire delle influenze dai dipinti di Karl Barks, che avevamo analizzato già ai tempi del trailer, vi lascio il link dell'articolo nella scheda in alto e qua sotto in descrizione. Ho notato anche dei riferimenti ai profili oblò di Marco Rota, davvero la ciliegina sulla torta. Tutto questo ben di Dio, senza contare che l'universo di DuckTales ingloba dentro di sé le altre serie TV classiche, come Ecco Pippo, Tailspin e Darkwing Duck, già nominata diverse volte nei panel alle convention. Ci avevano già provato una volta a unire il mondo di Paperone con quello di WD nei fumetti. I risultati furono disastrosi, ma questa è un'altra storia. Inoltre questo grande cambiamento si percepisce soprattutto attraverso i personaggi che fanno da punto di riferimento per i bambini, e cioè i tre gemelli. Qui qua qua. Il desiderio di individualismo tipicamente americano rivoluziona tutto quello che credevamo di sapere sui tre fratelli. Ognuno con una personalità distinta, ognuno approfondito in modo diverso. Anche la scena in cui i fratelli raccontano le gesta di Paperone, in realtà serve a farci capire qualcosa in più sulla loro natura. Quo parla del lato ricco di avventure, qui dei misteri svelati dal prozio, e qua invece si crogiola pensando alle storie di Paperone che nuota nel suo denaro. A differenza della vecchia serie dove Paperone e i nipotini erano poco più che delle macchiette squadrate che vivevano avventure, qui percepiamo tutta la volontà di creare uno show con una trama orizzontale che racconterà molto sui personaggi e su quello che vivranno. È interessante notare che niente di quello che accade sullo schermo è lasciato al caso. Paperino deve affidare i nipotini a Paperone per un colloquio di lavoro, ma questo non è un escamotage narrativo per far sì che la famiglia si apparti e viva un'avventura alle spalle del marinaio. Questo lavoro si collegherà direttamente alla seconda parte della premiere portando Paperino e il suo nuovo datore di lavoro, niente popò di meno che cuor di pietra, fame d'oro, ad Atlantide seguendo Paperone. E ancora il finale della premiere svela che questa serie vuole rispondere alla domanda che tutti i fan Disney si pongono da tipo mezzo secolo. Insomma, per sintetizzare il discorso, DuckTales 2017 non solo riesce a creare una serie ricca di gag e misteri, ma è anche piena di personaggi che hanno grande cuore, bei dialoghi e molto da dire attraverso dei disegni perfetti con uno stile che sintetizza fumetto e animazione. Questo è un vero e proprio ritorno in grande stile. Allora, voi cosa ne pensate di questo reboot Disney? Vi intriga la storia alla Gravity Falls in chiave paperi? Fatemelo sapere lasciandomi un commento qui sotto. Ho notato che questa serie è ottima per allenare la memoria, quindi se siete degli hardcore fan della Disney vi straconsiglio di guardarla per scovare tutti i segreti. Io ne ho trovati alcuni che mi hanno fatto sinceramente battere il cuore, come la citazione a Lupin III. Ve li mostro qui a fianco. Se volete scoprire altri easter eggs, guardate anche i video di Mattia del Core. Vi lascio il link qua sotto nella descrizione del video. Vi saluto ricordandovi che qua sotto nella descrizione del video potrete trovare diverse informazioni e link utili per continuare a seguire il mondo di DuckTales e Disney in generale. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao e liberi di leggere! Ciao ciao!